Oltre 150 persone infette e almeno due morti e il risultato, sin qui purtroppo parziale, del propagarsi di un'infezione di legionella Warstein in Germania. Il focolaio nel nord Reno-Westfalia è stato identificato in uno stabilimento di depurazione delle acque e ha colpito persone di ogni età. Il virus attacca i polmoni, provoca febbre e stato di spossatezza che può arrivare fino alla morte. Il ceppo sembra particolarmente virulento, dato che è composto da almeno 19 batteri differenti. Spiega un portavoce del locale istituto di igiene. E' il caso più grave al mondo di contagio, provocato da fattori ambientali e non da trasmissione da persona a persona e i contagiati non rischiano di trasmetterlo a loro volta a qualcun altro. E il virus si sarebbe trasmesso per aerosol, ovvero goccioline infette sarebbero entrate in contatto delle persone che si sono ammalate. Quello che non si capisce è come queste persone e non altre siano venute in contatto con le acque contaminate, se cioè abbiano bevuto acqua contaminata dal rubinetto di casa oppure si siano ammalate per altre ragioni.